Perché scegliere un family banker Mediolanum? Perché il family banker si rivolge a una famiglia da una banca di una famiglia. Io ho clienti che sono con me da 25 anni. L'imprenditore i patrimoni li costruisce attraverso la propria attività. Io e la banca ci impegniamo a valorizzare e proteggere questi patrimoni. Oggi per i miei clienti imprenditori la banca porta soluzioni anche per le esigenze complesse dell'impresa. Quindi far sì che la sua azienda possa crescere e fare più business. Io gestisco emozioni, non patrimoni. Dietro un family banker Mediolanum c'è tutta banca Mediolanum. Banca Mediolanum, costruita intorno a te.